Mi sembra riduttivo voler mettere in evidenza soltanto questo fatto che lui è stato un consigliere comunale, è stato uno scrittore, è stato un poeta, insomma, secondo me questi aspetti qui passano in secondo piano rispetto a quello che è il suo passato politico. L'AMP di Arezzo prende posizione in merito all'iniziativa che il prossimo 19 dicembre ricorderà ad Arezzo in una sede istituzionale, la sala del Consiglio Comunale, Oreste Ghinelli a 100 anni dalla sua nascita. Aretino, padre dell'attuale sindaco di Arezzo Alessandro, Ghinelli è stato tra gli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Per oltre 10 anni ha guidato il Movimento Sociale Italiano di Arezzo ed è stato consigliere comunale per un lungo periodo. Non ci sembra opportuno che il Consiglio Comunale lo debba ricordare in una veste che vorrebbe coprire, secondo me, questi aspetti che invece sono imbarazzanti. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo tanto che sarà proprio il suo presidente, Luca Stella, a moderare gli interventi di Claudio Santori, storico di Piero Melani Graverini, avvocato, e di Marco Cellai, ex segretario del Movimento Sociale Italiano. Ghinelli verrà ricordato come politico, avvocato e artista. Non è la prima volta che Arezzo ricorda la figura di Oreste Ghinelli. Era il 2015 quando la società storica Retina lo ricordava tra i protagonisti del Novecento, appunto, ad Arezzo. In quel caso la sede era l'auditorium comunale Aldo Ducci. Oggi Ampi definisce questa iniziativa inopportuna alla soglia dell'ottantesimo anniversario delle stragi nazifasciste in Italia. Noi metteremo e abbiamo già in campo alcune iniziative di presentazione di libri, lavoreremo con le scuole soprattutto anche per ricordarlo l'anno prossimo questo anniversario, e anche con le amministrazioni comunali che condividono con noi i valori dell'antifascismo. Ora, un'amministrazione comunale che fa un'iniziativa di questo tipo in questo periodo storico, insomma, io spero che si possa in qualche modo rivedere questa posizione che hanno. Ampi non esclude iniziative di protesta e di dissenso alle quali invita la cittadinanza a partecipare. Ribadisco, mi auguro che i cittadini democratici di Arezzo vogliano aderire. In serata è arrivato anche il commento dell'amministrazione comunale a firma del vice sindaco Lucia Tanti, un lungo comunicato stampa nel quale sostanzialmente si difende l'operato del presidente del consiglio comunale Luca Stella, posto che chi è stato dalla parte giusta o sbagliata della storia ormai sia chiaro a tutti. Per la sinistra era l'uomo dell'altra parte, afferma Lucia Tanti, ma anche quella parte è storia della patria e della città, e per questo bene ha fatto il presidente Stella a dare spazio a questo momento di ricordo, peraltro non solo politico, nell'aula consigliare, che è di tutte le parti, dei vinti e dei vincitori, della destra e della sinistra, di chi aveva ragione e di chi torto, perché è nella somma di tutte queste parti che si fa la storia di Arezzo.